Norme in materia di controllo sui bilanci degli enti, delle aziende sanitarie, delle società partecipate della Regione e delle fondazioni promosse dalla Regione. E' la nuova legge regionale che il capogruppo di Laboratorio Basilicata Fratelli d'Italia Gianni Rosa ha presentato ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa. L'obiettivo del provvedimento è quello di sottoporre tutti gli enti strumentali della Regione ad un'unica disciplina sui controlli dei bilanci, dei relativi provvedimenti di assestamento e variazione e dei rendiconti, come spiega il promotore della legge. Questa legge si istituzionalizza il controllo, nel senso che i bilanci di tutti questi enti, fondazioni e società, arrivano obbligatoriamente al controllo della Commissione e obbligatoriamente si sviluppa un dibattito in Consiglio regionale. Questo per approfondire le questioni, immaginiamo che il mondo sanitario in Basilicata costa più di un miliardo di euro l'anno e i bilanci delle singole aziende sanitarie o delle aziende ospedali sfuggivano al controllo del Consiglio regionale. Quindi un passo in avanti nell'ottica della trasparenza. Tra l'altro l'ARPAB e quello che è successo all'ARPAB, un bilancio 2014 non approvato e sfuggito sia al direttore generale dell'ARPAB sia agli uffici regionali, dimostra che nonostante vi era una procedura è sfuggito al controllo.